Il progetto in realtà è datato, nel senso che è iniziato un anno e mezzo fa, che nasce con l'idea di salvaguardare le api e più in generale gli insetti impollinatori. In realtà non è un'idea nostra, l'idea nasce in Veneto dove 15 comuni assieme ad APAT, che sarebbe l'associazione degli apicoltori veneti e Confagricoltura, gli venne in mente di far nascere questo progetto, cioè quello di seminare la faceglia. Ecco perché oggi siamo qua. Perché la faceglia? La faceglia è un fiore che rispetto ad altri fiori è pieno di nettare in proporzione agli altri fiori, per cui diventa un'attrazione incredibile per le api e in generale per tutti quelli che sono gli insetti impollinatori. La fase 2 è quella di coinvolgere altri comuni. Come è accaduto in Veneto e dicevo prima che sono stati coinvolti 15 comuni, la nostra intenzione era di fare la stessa cosa anche qua, cioè di replicare allo stesso modo. Per cui abbiamo pensato di coinvolgere i comuni che fanno parte dello stesso bacino idrografico della Valle del Foglia. Per cui ieri mattina è partita una lettera a tutti i comuni che sono, ne abbiamo contati circa una ventina, che vanno praticamente da Gabicce Mare fino all'ultimo comune su nell'entroterra che è Carpegna, Pietrarubbia. Terza fase è quella assieme, io sono anche collaboratore della consigliera regionale Marta Ruggeri, che anche lei quando ha visto la mozione gli è subito piaciuta, per cui ha portato la stessa mozione e l'ha portata in consiglio regionale. Probabilmente nell'arco di Uola, l'abbiamo già portata circa un mesetto fa, per cui i tempi dovrebbero essere che fra un paio di mesi passa anche in consiglio regionale, probabilmente potrà diventare addirittura un progetto regionale, questo ci auguriamo. Per concretizzare questo progetto abbiamo chiesto la collaborazione di Aspes, che è il nostro referente ambientale in materia del verde. In questo campo erano previsti cinque tagli, per cui il comune doveva pagare questi tagli in questo benissimo anfiteatro sopra le scuole medie. Abbiamo individuato quest'area perché si prestava benissimo per questo progetto, quindi quest'anno e l'anno prossimo con solo tre passaggi di aratura contiamo di sostituire i dieci tagli previsti e coprire il costo di questo progetto con i risparmi dei tagli che non verranno eseguiti. Quindi sono meno passaggi dei mezzi che passavano qui a tagliare l'erba e speriamo di fare qualcosa di utile per l'ambiente. Proprio perché lavorando la faceglia, questo campo, praticamente i mezzi sono passati, i trattori sono passati solo tre volte, uno per arrare la terra, per sfinarla e per seminare, mentre in due anni se avessimo continuato a tagliare l'erba i mezzi sarebbero passati dieci volte, cinque volte all'anno. E questo cosa significa? Meno gasolio, e sappiamo che adesso è un grosso problema quello del gasolio, e meno inquinamento. Può essere pericoloso il fatto che qui ci sia un percorso pedonale, che in questo campo, in questo terreno ci saranno delle api? Le api sono degli insetti che volano, che fanno il loro lavoro, non è che attaccano l'uomo, quindi le persone possono tranquillamente passare e quando sarà fiorito speriamo di ammirare anche un bellissimo paesaggio che già si presta come anfiteatro ad una magnifica vista su tutta la vallata. Lega Ambiente ci ricorda qualche tempo fa che negli ultimi trent'anni abbiamo perso quasi il 70% della massa volare, quindi degli insetti, in Europa stiamo parlando. Per quindi è un dramma, è veramente un dramma. Ricordo che solo in Italia ci sono 960 specie di api. Quindi un terzo del cibo che è nelle nostre tavole dipende dalla loro impollinazione. Senza di loro, non lo so se forse la specie umana possa sopravvivere lo stesso, ma sicuramente non in questo modo.